grande vittoria alla 15e place noi ritroviamo il numero 17 Leandro alla 14e place noi ritroviamo il numero 9 Vanni l'unico che non ha superato il primo giro grande Vanni quanta onestà a la 13e place noi ritroviamo il numero 1 Alan alla 12e place noi ritroviamo il numero 10 Eraser a la 13e position noi ritroviamo il numero 16 LM Prima volta Alla 10e place noi ritroviamo il numero 3 Art Grande Artemi Alla 9e place noi ritroviamo il numero 14 Ah Ah Alla 8e place noi ritroviamo il numero 21 Cheese Alla 7e place Alla 7e place noi ritroviamo il numero 4 Medici Grande Medici Alla 6e posizione noi ritroviamo il numero 20 Quattro Grande Dottor Grassi Grande Dottor Grassi Alla 5e place noi ritroviamo il numero 23 Matteo Matteo È finito il soffrittone Grande soffrittone che gara indegna Alla 4e place noi ritroviamo il numero 12 Presidente Grande Presidente Filopodio Un cucchiaio di legno Un cucchiaio di legno C'è il cucchiaio glielo dobbiamo trovare Alla 3e place noi ritroviamo il numero 24 Dan D'accordo lì Grande Dan Qui c'è anche il podio Scusa ma io una medaglia per la partecipazione Scusa la mia medaglia ho vinto la classifica femminile Dovremmo ritrovare una medaglia